Musica Oh! Ti chiamo? Irina mi chiamo Parlare un pochino, che hai stato in Las Malvinas? Un posto pericoloso non sono mai stata Sono stata sempre nei posti bellissimi Tra qui questo, perché non è bellissimo E di più è fantastico È un posto meraviglioso dove veramente Non avrei mai pensato che un giorno Di arrivare qua e invece sono arrivata E sono contenta Mi trasferisco qua a vivere Molto grazie Tu già cominciai il tuo ceviche di carretilla Tu emolliente Sì, ma io il ceviche si mangiato Ho bevuto pure un drink buonissimo Come si chiama a parte? Quello Bisco Sour Bisco Sour Molto buono Ho provato una volta, mi è piaciuto tanto E tu già conosciuto Lima? Perché tu sai che in combi ti vas a passeare per tutto Lima Ti vas a andare a Caquetà Ti puoi andare al centro di Lima In combi Tu fai in combi a tutti i lati È molto sicuro viaggiare in combi Ok, allora Io Lima ancora non l'ho vista Perché noi siamo arrivati ieri sera Ed è stato tutto così fantastico Siamo andate al ristorante C'è stata un'accoglienza fantastica Quindi noi non vediamo l'ora di visitare Lima E tutto il Perù Perché sappiamo che comunque ci sono dei posti meravigliosi E poi spero anche che ci farete assaggiare le vostre I dolci I vostri dolci Esatto Le vostre specialità Sì, sto d'accordo contigo Tu ti hai cara di figuretti, un pochino Tu puoi fare la prossima florsita che in Perù? Muchas gracias Sono molto contenta E che cosa Siamo arrivati ieri sera Appunto abbiamo fatto questo lunghissimo viaggio Perché sono state 15 ore di viaggio Però appena arrivati Siamo venuti qua Al piano di sopra Abbiamo fatto una festa Tutti insieme Hanno ballato I bambini piccoli Ci hanno fatto un ballo Splendido E per questo Niente Sono veramente felice Poi siamo arrivati al nostro appartamento Un appartamento mega galattico E infatti ringraziamo tantissimo Maurizio Perché non sono mai stata in una casa del genere Molti grazie Perfetto E tu E tu tienes questa Toda la pinta che ti gusta shopping Ti gusta andare a comprare Ti sei stato per Gamarra Ti sei stato a Gamarra A vedere le prende La tela di qua del Perù Sì Mucic Gamarra Mi piacerà Diciamo che quando ci porteranno A andare a fare shopping Vedrò questo posto E sicuramente mi piacerà Comunque mi piacciono moltissimo I vestiti tradizionali Molto colorati Da come ho potuto vedere Siete tutti un po' colorati Quindi Che parte d'Italia sono? Parte d'Italia? Roma 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 Genova Genova San Benedetto del Tronco San Benedetto del Tronco Roma Roma Io ho stato in Torino E in Milano Mi piace molto Milano 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 La caglia Milano Dolce & Gabbana Armani Versace Parada La burro casa La burro casa Es una pasarela Milano En la calle Dile Más amor Pasión La historia Divertimento Divertimento Amigos Van a ir a la selva 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 Cuidado que es bien caliente la selva Ahi 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 El matacalzón El rompecalzón Animali Sonos Mosquitos Tambien Anio a Chincha Tambien al Carmen Al Carmen Ahi si Ahi Unos morenos bien guapos Ah Qui El Carmen Grandazo Si Hombre Ah Vas a presentar a nosotras Mauricio Que tal casi nos has hecho en Italia Ahora Después de las chicas rusas De las chicas doradas argentinas Vanessa Geri Ahora has tenido las italianas Estoy muy orgulloso De las modelos italianas Seleccionadas Que han venido acá al Perú Estas chicas que nos van a presentar Que traen desde Italia Desde Europa Desde el antiguo continente Bueno este sábado Hay una sorpresa No Tu sabes que El sábado es la fiesta Principal Con la que empezamos Celebramos también los 21 años de rústica Que bonito Oh Allá vamos a estar todos Claro Oh A quienes vas a invitar Bueno están invitados En principio tu sabes Todos Siempre todos Yo recuerdo que una oportunidad Reunirte a todas tus ex Ahí También van a estar a todas tus ex Claro Vamos a hacer algo Algo distinto Diferente Pero bonito Y por que Dailin no va a estar Bueno ella está en Miami Ahora terminando de grabar su disco Pero igual Los proyectos de matrimonio siguen Ella está terminando De grabar unos papeles Ella sigue casada Tu sabes Así que Y bueno lo bueno que me da permiso Mira para hacer Estos casting He tenido que hacer Un casting de 180 mujeres Bueno este sábado Este sábado 10 de la noche En Rústica Costa Verde La primera fiesta Y la primera sorpresa La sorpresa de San Italiano Nos tienen preparado algo Así que No se lo puede perder